Dopo il grande successo dell'estate scorsa, Piazza Municipio di Montecchio torna ad ospitare il Festival delle Commedie Dialettali. Dal 5 al 9 agosto, 5 serate non stop con gli spettacoli di 5 compagnie del territorio. Ad aprire il sipario della seconda edizione sarà la Compagnia Accademia, a seguire i nati per caso, la piccola ribalta, la compagnia urbinate e la chiusura con la compagnia improvvisando per un festival presentato nel municipio di Vallefoglia. Questo è un evento importante, si va a concludere oramai la festa dei quartieri, che è un altro evento importante, dopo la Notte Bianca, dopo la festa global, eccetera. E poi questa è un po' nelle tradizioni, sono due compagnie dialettali di Vallefoglia, uno di Montecchio, uno di Bottiga, Morciola, Capone, quell'area dell'ex comune di Colbordolo, e poi tre compagnie di Urbino, Pesaro, insomma, del territorio. Anzi, noi abbiamo realizzato anche un festival delle compagnie dialettali, anche il Teatro Branco a Sant'Angelo in l'Isola. Pensiamo di poter continuare dopo l'evento della prossima settimana, da lunedì a venerdì. Abbiamo realizzato un palco raddoppiato, messa a norma, eccetera, per tutti gli eventi. La piazza, la piazza del municipio, che tiene tantissima gente. Pensiamo che le 4-5 mila persone che sono venute l'anno scorso, di averle anche quest'anno.